Nella hall dell'hotel Hamla, Alembollini di Italia 2, peraltro, grazie, piacere, Alberto Porta di Italia 1, 2, andate a mangiare insieme? Libanese, infatti domani starò male, Italia 2 me la faccio tutta così, un piatto di piazza, e tu? Oh, tanti buoni mezze, facciamo il taboulè, l'hommus, ce l'afel, e io con Paolone Beltramo? Molema è a mangiare del... A Messicano, stasera è l'ultima sera, come l'ultima sera? Siamo appena arrivati? No, è l'ultima sera che ci possiamo permettere di andare a sedersi, c'è un torno a un tavolo, perché poi... A sedersi al torno a un tavolo, tu di me, e bianchi? Libano, 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 stasera proviamo il Libano, ci sono delle macchie di Barboni fuori o no? Sì, oh, ce n'è una, quindi dopo bisogno, eh, una cosa seria, attenzione, Bollini ha bisogno di una cosa seria, Per la rubrica di Marquez, ti devo esporre il mio progetto, mi devi esporre il progetto? Sì 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 Sì